Cosa sei? Sei un vero gentiluomo! Beh, dopo una dura giornata di navigazione nelle fognature non c'è niente di meglio che rilassarsi in un bel bagno con idromassaggio jacuzzi. Sembra proprio super invitante! Oh sì, sì, l'acqua è perfetta! Ora tu salti dentro e io passo l'olevo per far partire la bolle. Già, salto in acqua! Aspetta, 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 aspetta! Lo so che prima siamo partiti col piede sbagliato, ma io credo che fra di noi andrà tutto lì, so... Tu no! Una nuotata di salute! Ci vediamo, amico mio! No! Che fa' quello? Pensi che non sappia neanche riconoscere un gabinetto? Tu volevi scaricarmi dal censo? È un'ecosicciccante modello estrarosso! Adora non ti dispiace se faccio partire le bolle, non è vero? Non lo levarò! Non so godare! Buon viaggio, vecchio biscotto rinsecchito! Appatidoso! Volevi scaricare bene il nostro cuore, vediamo se a te piace! Hai visto mio padre? Nooo! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Eh? C'è nessuno? Aiuto, aiuto, aiuto. Ora apro gli occhi e sono a casa mia. È tutto un incubo. Oh, non sono a casa, voglio da... Smettila, smettila, Rotti. Smettila, voglio da la casa. Ricomponiti adesso. No, non ce la faccio, sono solo spaventa. La vuoi smettere? Basta, basta. Rotti, vecchio mio, tu puoi uscire da questo guaio e ne uscirai. Non dimenticare che il sangue del prode clandese in James scorrebbe le tue vedi. Sì, sì. Una via di uscita. Sì. Oh